cioè che a compile time se sbaglio qualcosa mi dia un errore di sintassi quindi non abbia delle sorprese a runtime ma abbia tutto controllato quando vado in compilazione quindi che facciamo? andiamo qui sopra di solito lo faccio qua sopra perché di solito i componenti sono piccoli tendo a tenere dei componenti piccoli con dei form group poi dipende ovviamente dalla dimensione della forma ma tendo a concentrare il tutto dentro il file ts questo è per quando uso i form andiamo a definire una interfaccia andiamo a definire una interfaccia su questa interfaccia vediamo il nome di questa interfaccia ad esempio possiamo chiamarla ai percorso form group in questa interfaccia definiamo come dovrà essere il JSON finale quindi diremo che ad esempio destinazione è un form control di stringa come vedete non metto il new form control così Fabio impara a provare ad imparare mannaggia così andiamo a definire il tipo quindi non mettiamo new form control perché stiamo definendo l'interfaccia una volta definito l'interfaccia del nostro form group andiamo qui e qui ci diciamo che questo form group è di tipo è percorso form group come vedete mi sta dicendo che destinazione cosa mi sta dicendo? guarda che il form control di string oppure null non è assegnabile a form control string perché? perché quando noi definiamo in questo modo il form control il risultato e questo l'abbiamo visto prima anche quando facevamo esempio il luogo questo form control accetta sia string e sia null per dirgli di non accettare il null perché qui sull'ai percorso form group gli abbiamo detto che vogliamo soltanto la stringa qui alla fine e solo alla fine quello che possiamo dirgli di opzione qua dentro è di dirgli intanto di mettere le opzioni le opzioni i validators e questo lo mettiamo tra parentesi quadre perché posso avere più di un validatore e qui gli diciamo non nullable e punti true a questo punto l'errore si risolve commentiamo un attimo questo in questo modo stiamo dicendo che quel form control non può accettare valori null non nullable esatto e quindi abbiamo risolto il problema ovviamente adesso andiamo a sistemare anche lo nad quindi riducommentiamo questo controllo a questo punto il form group che abbiamo tipizzato quindi deve essere per forza si potrebbe definire anche nel form group per tutti i campi giusto? si potrebbe definire anche nel form group per tutti i campi giusto? si cioè nel form group definisci l'interfaccia quali sono i campi non so se questa era la tua domanda curo cioè vedi qui nel form group dico che questo form group dovrà implementare ai percorso form group quindi anche qui metto la parentesi quadra lo mettiamo tra parentesi graffa in maniera tale che posso dirgli che questi sono i validatori dators due punti e possiamo dirgli non nullable due punti true ok abbiamo visto come tipizzare il form group vediamo cosa c'era dopo ok abbiamo aggiunto l'elemento quindi aggiungere la nuova destinazione certo sono salvo quindi aggiungere nuova destinazione aggiungere le destinazioni posso cancellare il json qui risultato lo vediamo è corretto ovviamente se io adesso ricarico vedere già la destinazione è un po' bruttino no quindi andiamo qui quando andiamo a definire il nostro form group qui possiamo a questo punto dire cancellare questo ovviamente qui ci dice che non può essere perché perché mi dà questo errore perché abbiamo tipizzato il form array quindi qui dobbiamo dire che questo form array è di tipo form group di tipo ai percorso form group adesso salviamo è ritornato a funzionare avete visto a questo punto il path è tipizzato quindi è un form array che al suo interno ogni elemento di questo form array è un form group che è di tipo ai percorso form group aggiungo nuova destinazione adesso mi salta fuori destinazione 0 ovviamente qui non vogliamo mettere destinazione vogliamo che sia un form control vuoto quindi cancelliamo il tutto andiamo a risalvare aggiungi destinazione ovviamente ovviamente insomma diciamo che nel nostro form questa situazione che l'utente possa inserire una nuova destinazione senza inserire effettivamente la destinazione non ci va tanto a genio noi vogliamo che prima di aggiungere una nuova destinazione l'utente riempia ad esempio l'elemento precedente quindi come facciamo dobbiamo metterci un controllo di realizzazione non tanto sull'elemento ma a livello di form array quindi dobbiamo andare a controllare che questo form array sia valido e come facciamo andiamo nel nostro HTML e ovviamente il bottone dell'aggiunta della destinazione dovremo andare a controllare che effettivamente che effettivamente si possa si possa aggiungere no? vediamo se riesco a beccarlo qui mettiamo disabled quando è che sarà disabled quando il mio form controls punto per il percorso perché siamo nel tab diciamo tab vabbè abbiamo fatto questo ad esempio proprio per avere più possibilità di avere più controlli insomma percorso punto invalid andiamo a salvare in questo momento non c'è nessun elemento quindi è valido se io adesso aggiungo vedete non mi permette di aggiungere perché? perché se vi ricordate prima abbiamo detto quando andiamo a creare il nuovo form group qui stiamo dicendo che la destinazione è di tipo required quindi per poter abilitare questo pulsante bisogna aggiungere qualche cosa un altro ovviamente i validatori possono esserci più di uno oltre a esserci required possono metterci ad esempio validators punto millent di tre quindi significa che l'utente quando fa prima di aggiungere una nuova destinazione non può mettere soltanto due lettere ma ne deve mettere almeno tre altrimenti non può aggiungere una nuova destinazione e quindi ho bloccato l'utente ad esempio per poter creare più destinazioni vuote che poi magari non comprende quali sono le destinazioni sistemiamo un attimino questa forma perché veramente è inguardabile in questo caso che faccio rimetto il div perché mi interessa il div ma mi interessava farvi vedere invece di usare il div solo per fare un ngif un form group eccetera farvi vedere che esiste anche l'ng container questa classe facciamo un flex flex call gap3 vediamo un po' andiamo ad aggiungere qualche destinazione vedete adesso l'ho spaziato magari ci aggiungiamo anche un padding ok andiamo a vedere ecco già più carino in realtà l'input se vi ricordate dobbiamo metterlo all'interno dove era dove era quello per percorso eccolo qui dobbiamo metterlo sullo stile di questo quindi magari lo facciamo anche qui class quindi mettiamo un form input che è la nostra classe che abbiamo definito prima gap3 item center se vogliamo centrarli andiamo a vedere ecco è già più carino certo non è il massimo di stile però un po' più stilizzato ora però che vogliamo fare se io cancello qui vedo l'aggiungino a destinazione ma vorrei poter fare ad esempio invece di metterci il required all'interno di ogni di ogni textbox vogliamo toglierlo diciamo che togliamo via i validators su